a tutti da Andrea Cartotto, una risorsa semplice e rapida che ci dimostra come anche una operazione banale, quale la condivisione di un link da video YouTube, possa essere esercitata con reale competenza digitale. Vi mostro quest'oggi l'utilizzo di safeyoutube.net, ecco la risorsa web che vediamo nella barra degli indirizzi, il sito di riferimento. Cosa ci permette di fare? Io posso prelevare da YouTube il link di un video specifico, posizionarlo in safe YouTube e generare un nuovo link che ripulisce all'istante la visualizzazione del video da i video suggeriti, commenti, qualunque fonte di distrazione, perché il video, i destinatari e dunque gli allievi lo vedranno mediante una finestra specifica di riproduzione, quella appunto di safeyoutube.net. Vediamolo all'opera. Faccio un clic sul più in alto ed apro una nuova scheda del browser, poi clicco in alto a destra sul pulsante puntinato, le app di Google che molti di noi conoscono ed utilizzano. Un clic su YouTube e simulo la ricerca di un video sull'antica Roma. Dunque un clic, digito l'antica Roma, premo invio sulla tastiera e do a disposizione un elenco. Naturalmente prendo un video lungo perché vi mostro come sia possibile selezionare e mostrare dunque agli allievi solo un minutaggio del video desiderato, quello su cui porre l'attenzione perché non è un vero e proprio ritaglio ma una segnalazione. Allora, prendo ad esempio Roma storia di un impero. Un clic lo mettiamo subito in pausa. D'accordo? Guardate un'ora 31 minuti e 55 secondi. Allora, clicco in alto sul mio indirizzo, tasto destro e poi tasto sinistro su copia con il mouse. Chiudo con X la scheda di YouTube e sotto mi è rimasta in primo piano la scheda di safeyoutube.net. Benissimo. Mi posiziono sulla riga bianca al centro, tasto destro e poi un tasto sinistro su colla. Quindi clic sul pulsante rosso generate link. Volendo il mio video già così sarebbe ottimale. Un clic su copy e io potrei immediatamente condividere questo url tramite ambienti di apprendimento quali classroom, we school, posso condividere sul registro elettronico, trasferire con il mezzo desiderato. Ma non basta. Abbiamo un pulsante azzurro chiamato customize crop, personalizza, ritaglia. Un clic ed ecco a nostra disposizione una serie di impostazioni molto interessanti. La possibilità di modificare il titolo, quello che vedranno i destinatari. La possibilità di scegliere il colore di sfondo della finestra di riproduzione che vedranno i destinatari. Non badate più di tanto a enable download button perché non indica necessariamente che si possa anche scaricare, cioè le regole sancite circa il diritto d'autore non vengono a morire in questo contesto. Però andiamo a spegnere con un clic ad esempio il pulsante sharing buttons. Nulla di male, ma in questa maniera i destinatari neppure vedono sotto il video i pulsantini di condivisione con mezzi quali ad esempio Whatsapp, Facebook, Twitter e così via. L'autostart è interessante averlo acceso perché non appena si clicca sull'URL parta il video, ma molto interessante è il bottone, anzi il link che abbiamo qui cliccando su crop, ritaglia. Guardate come è semplice. Io ho il mio video, d'accordo? Ho un punto di inizio e un punto di fine con i minutaggi. L'insegnante ha prima esaminato il video e avrà dunque già visto che il punto saliente è dal minuto 19 e 21 sino al, andiamo un pochettino, quindi al punto 43 minuti e 16 secondi sulla totalità del video. Bene, questa è la porzione a cui prestare attenzione. Un clic su ok, d'accordo? Ricordiamoci di cliccare save qui in basso. Una volta personalizzate le opzioni che ci interessano, a questo punto io posso cliccare su copy e do un URL pulito e personalizzato adatto ad esempio e oserei dire straconsigliato nel caso di scuola dell'infanzia e scuola primaria, ma in realtà una risorsa valevole in innumerevoli contesti. Vediamo per curiosità cliccando sul pulsante verde go to save view, cosa vedranno e cosa vedrebbero gli alunni. Ecco la finestra di riproduzione, ok? Ecco il video, osserviamolo, background celeste, titolo che io voglio mostrare ai destinatari. Il video, metto un attimo in pausa, ha naturalmente la sua durata completa, perché non è un ritaglio vero, ve lo commento nella prima parte, è una segnalazione, ma gli allievi vedono dal punto esatto scelto da me. Tra le opzioni di interesse, perché è pulitissima questa finestra, è veramente eccellente per focalizzare l'attenzione qui, il pulsante comunque del tutto schermo, il full screen, ed un pulsante qui accanto che permette di variare il playback speed, dunque la velocità di riproduzione, qualora ad esempio una famiglia o un allievo ritenesse di rallentare un pochettino il parlato per fluirne appieno. Ecco una risorsa, facilissima da mettere in pratica, ma che ci dimostra anche in questo caso come sia realmente importante e fondamentale per un docente avere competenze digitali mature anche su una operazione che pare apparentemente semplice. Altri materiali didattici sempre su youtube.com slash trainerandrea e ancora un caro saluto da Andrea Cartotto.